Grazie a tutte le persone della sezione, io mi scuso con loro, approfitto perché sono stata un pochino assente, però veramente i ragazzi della sezione hanno lavorato tantissimo e hanno permesso a noi tutti di essere qui oggi e condividere questo momento insieme. Quindi grazie, grazie del vostro tempo. Inizierei col far parlare il nostro segretario provinciale Emiliano Occhi. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora Nicoletta per le belle parole, io sono il segretario provinciale e diciamo che fa piacere vedere una sala così piena di tante persone perché effettivamente questo testimonia un grosso rilancio che ha avuto il nostro movimento in questi anni ed è la cosa più bella per noi è vedere tante persone che si avvicinano, specialmente in questo momento, in questa valle, Valle Iceno e Taro che l'anno prossimo ci vedrà protagonisti in tantissimi comuni ed è importante vedere tante persone che potranno essere protagonisti in queste elezioni, in questa tornata elettorale. C'è bisogno di impegno, c'è bisogno di persone che si impegnano per il proprio paese, ma questo è la caratteristica di tutti coloro che si sono sempre avvicinati alla Lega. È più che altro una voglia, un desiderio di essere vicini alle persone e di poter fare qualcosa per il proprio paese. Io ho visto la differenza enorme negli ultimi giorni, per esempio avete visto la polemica che c'ha, io sono anche capogruppo in consiglio comunale a Parma, avete visto la polemica sui diesel Euro 4 e la battaglia che abbiamo fatto in comune, avete visto la risposta che ci ha dato il sindaco Pizzarotti, sostanzialmente dice dovete cambiare stile di vita, il mondo va in quella direzione. Il sindaco Pizzarotti che non è vicino per niente alle esigenze delle persone, alle esigenze dei cittadini, le persone che lavorano, parlo degli artigiani, le persone che devono portare i bimbi a scuola al mattino e andarle a prendere la sera, loro sono persone che vivono in centro, si muovono in bicicletta e se ne fregano di tutto il resto. Noi invece il primo interesse è capire i desideri e i bisogni delle persone che lavorano, sempre è stata così la Lega. Le persone che lavorano, quelle che producono, quello che portano avanti questo paese. E ripeto, è bellissimo vedere in un pomeriggio così, a un pranzo, tante persone che parlano tra di loro, noi abbiamo bisogno, questa nostra sezione tra l'altro, Valliceno e Taro, è molto grande, copre la Valliceno e la Valltaro e quindi ci sono tantissime persone che potranno dare una mano. Grazie Gianluca, grazie per essere qui oggi. Voglio ringraziare Nicoletta per questo splendido pranzo, Barbara, tutta la sezione, Gabriella e Giovanni, io lo chiamo Tombolo ma tutti noi lo conosciamo con qualche soprannome, hanno fatto veramente un ottimo lavoro in questi anni, in questa sezione. Questa è una delle sezioni più numerose della provincia di Parma. Parma è una delle province che ha ottenuto i risultati migliori alle elezioni del 4 di marzo ma che sempre regala dei risultati alla Lega veramente incredibili. Perché è bello essere qui oggi? Perché siete in tanti, perché come avete visto Giovanni si è anche commosso giustamente perché abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati, fatto un ottimo lavoro in questi anni, ma è bello essere qui oggi perché noi ormai da troppo tempo venivamo a fare dei comizi come questo, delle riunioni, dei pranzi, delle cene, in opposizione. Noi venivamo, promettevamo che quando saremmo stati al governo sarebbero cambiate le cose, di darci il voto, di darci nuovamente fiducia che le cose sarebbero andate meglio. Ma sempre, sempre promesse. Cosa è successo dopo il 4 di marzo? Abbiamo lottato, siamo riusciti a formare un governo e adesso finalmente tutti voi avete visto quello che è successo quest'estate. Quella ondata di profughi, finti profughi, richiedenti asilo, tutta la gente che entrava senza documenti, 180 mila l'anno di media come punta, comunque 600 mila persone dal 2011 all'anno scorso che erano entrate si sono quasi fermate. Dico quasi perché al governo non siamo da soli, ci sono delle normative internazionali da rispettare, ma le normative internazionali da rispettare non sono quelle che rispettava il PD. Il PD faceva entrare all'interno del nostro territorio delle persone e non solo le faceva entrare, le andava direttamente a prendere sulle coste nord della Libia. Questo è cambiato, tutti voi se dico oggi Aquarius o dico Diciotti sapete di cosa parlo, sono le barche che abbiamo bloccato, sono le barche che abbiamo rallentato, ma nel frattempo non ci sono altri sbarchi. Stiamo parlando di poche decine di migliaia di sbarchi a confronto di 110, 150 mila, 180 mila, poi si sente il PD che dice, ma entrano anche con voi, ma ci state prendendo in giro? Cioè ne entravano 150 mila, 180 mila e adesso ne entrano 10 mila e vi lamentate? Come ne entravano 10 mila prima che il PD prendesse il potere? Perché quando si lamentavano dei vecchi governi Lega fino al 2010 ne entravano 10 mila all'anno. Quindi i numeri sono un dato incontrovertibile e i risultati già oggi si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Ma cosa significa non far entrare queste persone sul nostro territorio? Significa che ci sono oltre 150 mila persone all'anno che entravano senza documenti, dei quali non sappiamo assolutamente niente ancora oggi, che non entrano più sul nostro territorio, quindi possibili criminali che non entrano. Sono denaro, 1000 euro al mese che spendevamo, oltre 1000 euro al mese che spendevamo per ognuno di questi soggetti che entravano sul nostro territorio, che seguivano dei percorsi che li tenevano sul territorio legalmente, a nostre spese per almeno due anni, che non entreranno più. Noi siamo passati dallo spendere 300 milioni, 500 milioni come nostro paese, come Italia, 3 miliardi e mezzo, 5 miliardi e mezzo per l'accoglienza, l'accoglienza di estracomunitari senza nessun diritto di essere sul nostro territorio. Perché alla fine del ciclo, soltanto delle verifiche effettuate, a soltanto il 7% di questi sbarcati è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Quindi il 93% è venuto, non aveva diritto, l'abbiamo comunque mantenuto per almeno un paio d'anni e ha mentito sulle ragioni per cui è venuto sul nostro territorio. Quindi abbiamo il 93% che è venuto qui e che voi vedete circolare senza documenti e che in più ha anche commesso un reato, ha dato delle informazioni false per entrare sul nostro territorio. A brevissimo poi arriverà appunto con la legge di bilancio tutto quello che noi vogliamo fare. Avete assistito in questi giorni al piccolo braccio di ferro che c'è stato a livello economico. Chiaramente il governo l'ha avuta vinta e siamo riusciti e riusciremo a mettere in campo delle manovre economiche che sono quelle che abbiamo promesso. Dico soltanto alcuni cenni, partirà il flat tax, 15% di tassazione per tutte le partite IVA con un reddito fino a 100.000 euro perché per far ripartire l'economia bisogna lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini, questo non è soltanto uno slogan ma è la verità perché se uno da tutto lo Stato non ha neanche i soldi da spendere, partirà la pace fiscale, le modalità precise saranno definite, però non è possibile che ci sia una persecuzione da parte dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei cittadini perché quando un cittadino su sei ha delle cartelle in Equitalia vuol dire che il sistema ha fallito, non è più colpa dei singoli cittadini ma è colpa del sistema, sono troppi, c'è qualcosa che non ha funzionato, bisogna proporre dei saldi estralci a quei cittadini che proprio non ce l'hanno fatta e non stiamo parlando di evasori fiscali perché non si tratta di un condono, si tratta di quelle persone che hanno regolarmente indicato il proprio reddito e quindi non hanno evaso proprio nulla e che non sono riusciti a pagarlo, hanno magari anche chiuso l'attività e a questi verrà chiesto di trovare una minima parte di denaro, un 6, un 15, un 25% in base al reddito attuale per chiudere le varie cartelle aperte. Adesso verrà valutata esattamente la norma all'interno delle Camere ma sicuramente sarà dato risalto e una speranza a tutti quei cittadini che oggi devono vivere lavorando in nero o non riuscendo a lavorare perché non hanno i soldi per emergere, per pagare queste cartelle e quindi per avere un lavoro in regola. Quindi queste sono soltanto alcune delle cose piccole e grandi che stiamo facendo ma ci sono alcune cose, in primis la sanità, che passa quasi esclusivamente soltanto dalla regione. Quindi se noi vogliamo una sanità migliore, una sanità che funzioni c'è da andare, prendere la regione Emilia Romagna e trasformarla per rimodulare i ticket per rimodulare tutti i servizi che oggi hanno come maggiori destinatari dei cittadini che spesso non hanno contribuito a rendere grande la nostra terra ma che vengono magari da fuori, non hanno nessun tipo di diritto e si appropiano dei nostri diritti e noi siamo gli ultimi della fila e paghiamo e agli altri vengono dati gratis. Questo succede da noi, non succede in Veneto, non succede in Lombardia e questi sistemi di accesso anche alla sanità sono totalmente da invertire. Sfondo una porta aperta parlando dei punti nascite in montagna mentre in Veneto e in Lombardia sono state date delle deroghe in Emilia è stata fatta una scelta scellerata quella di chiudere tutti i punti nascite in montagna come è stato chiuso qui nel Parmigiano, è stato chiuso nel Reggiano, nel Modenese, nel Bolognese tutti i centri nascite della montagna. La montagna aveva pochi abitanti secondo il PD quindi pochi elettori e quindi hanno deciso di calpestarla. Questa è una battaglia che stiamo combattendo giù a Roma con il Ministro della Salute ma che potremo combattere con ancora più forza andando a vincere la Regione e si potrà fare solo in questo modo una riapertura anche dei punti nascite montani per dare una nuova speranza anche a tutto il nostro crinale e a tutto il nostro appennino. Grazie.